E poi è un incapace. Sì, e dov'è il dinosauro? Va bene, obiezione accolta. Teoria alternativa. Seed mangia il broccolo. Il dinosauro mangia Seed e poi calpesta il broccolo, riducendo il broccolo a un vegetale. Buck, di preciso, quand'è che sei impazzito? Tre mesi fa. Una mattina mi sono svegliato sposato a una banana. Una banana orrenda. Però l'amavo. Ah, scusa, Buck. Credo che ti sia sfuggito un piccolo indizio. Beh.